Double Dragon è un videogioco arcade del tipo picchiaduro a scudimento, sviluppato e pubblicato nel 1987 dalla Technos Japan Corporation in Giappone e pubblicato dalla Taito in Europa e Nord America. Si può considerare il primo videogioco di grande successo del suo genere, fonte di ispirazione di molti picchiaduro a scudimento prodotti successivamente. In questo caso, nel nostro caso, abbiamo in mano la cartuccia del Game Boy, una conversione effettuata nel 1990. Diamo un'occhiata ravvicinata alla cartuccia, che è ovviamente un po' logorata dall'utilizzo e dalla vecchiaia. E ora vi lascio al gameplay. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!